Come tu puoi amare pienamente gli altri? Il messaggio, il messaggio più importante che mi ha dato è la domanda di spiegare, come puoi amare completamente gli altri? Perché non è una cosa facile amare, è facile dirla. Perché non è facile amare, è facile dirlo. Hai avuto molte interviste, molte conversazioni con il Papa? E il Papa disse, e di che chiesa sei? Sono cattolico, protestante e insomnio. Tutte queste religioni sono tante e si dividono tra di loro. Ma quello che conta è quello che Gesù veramente ha detto. Ma il Papa mi ha sempre insegnato, in tutti i suoi gesti, nelle interviste che ho avuto con lui, in tutti i contatti che ho avuto con lui, che devo fare da solo. Don Mario Mazzolini, a priest with a degree in moral theology, who once worked for Vatican Radio, was declared a heretic in the Vatican's bid to oust him from the Church. He is the author of the book, A Catholic Priest meets Sai Baba. I think your letter to the Vatican, accepting your excommunication, was the most gracious and loving letter I have ever read. Has any person from the Vatican, officially or unofficially, expressed their sadness over your excommunication? No. Recorded in September of the year 2000, his last interview before he died, Don Mario Mazzolini, Catholic priest, Sai Baba devotee, a loving man. This is his story on sojourns, about his excommunication by the Church of Rome, and about his love for Sai Baba. Can we begin by having you describe the ring that Baba gave you? Puoi descrivere l'anello che ha dato a Baba? Questo anello è la trasformazione di un altro anello che aveva creato sul momento. This is the transformation of another ring that Baba had made at the moment. Ed è stata la risposta che diede alla sua domanda, what do you want? And it was the answer that he gave to his own question, what do you want? E io gli risposi, vorrei pensare a Dio, 24 ore su 24. I answered, I'd like to think about God 24 hours a day. And when he gave you that ring, did it change your life at all? E quando ti ha dato quell'anello ti ha cambiato la vita in qualche modo? E innanzitutto l'anello l'ha cambiato, come ho detto prima, da uno precedente, semplicemente con un soffio. E questo mi ha ricordato immediatamente quanto si dice nella Bibbia che Dio creò il mondo e la vita con il soffio. che Dio creò il mondo e la vita con un soffio. Potete vedere la sua altra domanda? Si. Questo anello? Io credo di sì, nessuno può stabilire quanto la cambi. La mia vita mi sono accorto che è cambiata. Questo anello è stato donato poco prima della scomunica. E quando me l'ha messo al dito, ho sentito che si richiudeva sul dito. In modo così sicuro che oggi mi è difficile toglierlo. Oggi e allora anche. Non potevo toglierlo nemmeno allora. Devo dire anche che per parecchio tempo mi sentivo come stretto e sicuro in una fascia metallica. Noi diciamo in Italia, ti senti in una botte di ferro. Trova il corrispondente. Per dire che uno è al sicuro e non ha più nulla da tenere. Cosa ha fatto Bava quando ha soffiato su questo anello e ha cambiato questo anello? Ha soffiato su un altro anello, ben inteso. E io ero molto vicino. Io non ero interessato ai miracoli di Bava. Ormai ero convinto completamente che i suoi lila e i suoi miracoli sono autentiche creazioni divine. Però lui voleva darmi questa ulteriore grazia, darmi la dimostrazione a breve distanza di una creazione. Così io guardavo l'anello alla distanza di circa 30 centimetri. Vedevo Bava avvicinarsi e soffiare. E l'anello cambiò. Soltanto un trucco cinematografico potrebbe realizzare questa visione. Io avevo gli occhi ben fissi, non batte i ciglio. Ma ho visto veramente la sostituzione senza alcun movimento della mano da un oggetto all'altro. E io ho visto la sostituzione di un oggetto con l'altro senza alcun movimento. non vengono. E io ho visto la stituzione. Quindi io togli il fiata. No, particolarmente non ci sono state persone che ufficialmente non c'è stata nessuna dichiarazione. Qualche amico era dispiaciuto. Qualche altro avrebbe voluto cambiare la mia strada. Convertirmi. Se la tua comprensione e la tua prospettiva è cambiata da quando è libera. E sicuramente cambia ogni istante della nostra vita del contatto vicino con Baba. Non tanto contatto fisico, contatto spirituale, interiore. Nessuno di noi può stabilire quanto e come cambi. Non dobbiamo dimenticare che siamo di fronte a qualcosa di infinito. E l'infinito non è divisibile. Quindi io non posso dire quanto posso aver recepito dell'infinito. Riesco solo a dire con una frase ormai conosciuta. Più conosco Sai Baba e più so di non sapere di lui. Ma questo è un'ignoranza che mi dà tanta gioia. Ma questo è un'ignoranza che mi dà tanta gioia. Come ho detto prima, sarebbe presuntoso dire dove mi trovo. Ho la fortuna di tradurre tanti discorsi di Baba e quindi di essere costantemente a contatto con la sua parola. La sua parola è quanto di più profondo ci possa essere rivelato di lui. E nonostante, nonostante lui sia così misericordioso, così buono con noi. Al punto da dirci, io vi dico tante cose.